...questa libertà che finalmente oggi, ma c'è ancora da lavorare... Lo spunto che ha portato ad affrontare una discussione che si è sviluppata su diversi temi sono stati gli articoli 5 e 6 della Costituzione italiana. Si è parlato di autonomie locali, minoranze linguistiche e argomenti propri della Carta, ma alla fine il primo cittadino, Vincenzo Napoli, ha sottoposto temi di grande attualità, dai conflitti che stanno racionando il mondo fino alle problematiche delle nuove generazioni. L'ennesimo incontro di Viva la Costituzione, iniziativa promossa da Braccio e Paolo Masullo, che vuole promuovere la conoscenza dei primi 12 articoli della Costituzione, è stato aperto con un documento audio-video nel quale Piero Calamandrei, uno dei padri della Costituente, raccontava, nel 1955, ai giovani milanesi cos'era la Costituzione. Non una macchina che una volta messa in moto vada a sé, né un pezzo di carta, ma uno strumento che per essere vivo e attivo aveva bisogno di conoscenza e responsabilità.